Quando hanno presentato questo concept, il designer, l'architetto avrà detto con questa lampada abbiamo la vista, luce, l'olfatto Sì, 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 questo è uno scamma all'italiano E udite loro Ah mio Dio, pregiato incredibile Cazzo Buongiorno Buongiorno Molto bene, molto bene Allora, di che parliamo questo episodio? Breccio, io vedo qua O-Bag O-Bag, sì, ci siamo casati con la monografica su Crocs Effettivamente, sai, quando vai a indagare su questi brand che hanno un aspetto molto interessante per quanto riguarda l'originalità effettivamente sono prodotti mai visti prima scopri tante cose interessanti e quindi mi è venuto in mente che noi abbiamo un caso studio italiano per chi non lo sapesse, O-Bag è italiana che è simile Ok, è simile sotto che punto di vista? Siccome per il fatto che è una roba nuova Ok, quindi dal punto di vista di design cioè come storia simile è di conicità se vogliamo Esatto, esatto, esatto particolarmente originale Però l'opera di O-Bag non ha incolpato lo Swift di qualcosa quindi non è simile per questo Guarda, io ho cercato storie pazze e cose adesso ve la faccio vedere per O-Bag intendiamo chiaramente questa Perfetto Non c'è storie particolarmente pazze però siccome è un caso virtuoso italiano quindi raccontiamolo perché loro effettivamente nascono come loro si sono sempre definiti aziende di design Ah, ok Allora partiamo dalla storia Allora, 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 allora non come fashion ma proprio come design Allora loro nascono nel 2009 a Padova da un'idea di Michele Zanella che di base è un ingegnere ha altri amici e la moglie Allora, insieme a questi amici fondano questa azienda con un picchissimo budget però la cosa interessante è che il loro primo prodotto il primo prodotto di O-Bag non era una bag Cosa? E cos'era? Che cos'era? Non è bella Non sapete cos'era? Oddio, è un portachiave Ve lo faccio vedere Lo vendono ancora? Ma come? Era un orologio Un orologio Ah, di o di orologio Bello, bello Ma che c'è internet oggi? Va bene Sì, sì È un orologio Era low clock Sì, esattamente Ah, bene, bene No, è interessante perché avevano questa idea perché effettivamente era un orologio modulare quindi manteneva lo stesso concept che hanno anche adesso quindi della modularità estremamente semplice c'erano i meccanismi i quadranti, i colori diversi e la parte in gomma Perfetto Quindi c'era già dall'inizio una parte molto importante di customizzazione di personalizzazione che, come sappiamo in altri brand molto importanti non è facile da gestire Anzi, è molto complesso No, tra l'altro è stato un contesto questi anni qua 2010 erano quegli anni dove si faceva tantissimo focus su customizzati le tue cose erano gli anni di Nutella col nome sopra che cambiava Coca-Cola che metteva i bandieri i nomi i messaggi diversi quindi è qua in questo momento qua che è nato un po' questo hype verso le cose molto personalizzate e personalizzabili E loro presentano una cosa interessante questo orologio al Salone del Mobile Ok nel 2010 che siccome era un orologio che per l'epoca poteva siccome era c'è stato un movimento ci sta ci sta molto swatch molto swatch sì semplice anzi in realtà più semplice è più dura nel tempo c'è una reinterpretazione in plastica ovviamente in gomma scusate in gomma giusto plastica sì 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 bello sì io ricordo domanda sì dimmi a questo punto visto che chiaramente la cosa di branding è la O perché O bag è il primo operatore O clock come si chiama che cazzo vuol dire adesso te lo spiego purtroppo non è bello quanto speravo fondamentalmente penso ci sia una sorta di parallelismo tra iwatch cioè insomma iiphone eccetera eccetera però la O sta per original one and own una serie di parole ok iniziamo con la O ok 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 forse ok 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 allora però ok è nato prima o bag o la forma circolare c'è questa ridondanza del circolare perché anche l'orologio è molto circolare l'O bag c'ha i cerchi no non lo so non lo so vabbè non si diciamo non la flexano il primo prodotto è O clock poi come si chiami l'azienda madre non lo so è nato prima questa vision qua dell'own come era original one che era la stessa cosa niente vabbè però vabbè ci sta ci sta vabbè se lo vendono così e poi per caso forse ho magari detto cos'è un orologio un orologio o orologio o orologio potrebbero essere entrambi i casi però non funziona con borsa o borsa vabbè quello poi disponibilità fatto sta che loro il prodotto l'orologio anche perché io ho un ricordo che questa tipologia di orologio è una certa andata molto anche perché tecnicamente erano molto facili da produrre l'orologio che swappavi il movimento e il quadrante con dentro i cosini di gomma la fatti anche swatch se non mi sbaglio sì sì esatto ho tutto ricordo di swatch che faceva questa roba ma poi appunto flick flock mentre abbracciavamo forse sì comunque l'orologio di per sé era carino eccetera funziona funziona vendono tantissimo e da lì decidono di ampliare il business quindi nel 2012 qualche anno dopo lanciano Obeg perfetto ah no prima di questa cosa qui loro aprono un piccolo store non mi ricordo dove tipo a Jesolo non posso dire il genere aprono un piccolo store e lo store funziona lo store funziona quindi capiscono che il business e il brand mi piace eccetera eccetera si allargano e creano queste linee di borse che appunto chiamano Obeg ho avuto un'illuminazione velocissima perché per bag si intende qualcosa dove tu metti una roba dentro comunque anche in questo caso il concept ha senso in quel caso è una borsa con una O che di fatto continua una cosa con una O cioè anche la cover dell'orologio è una borsa però è una borsa per l'orologio allora vediamo se questa filosofia contenitore quindi bag uguale contenitore potrebbe funzionare vediamo se questa filosofia funziona per gli altri prodotti perché da lì hanno presentato le O shoes O sleepers O sun O sun cos'è? O sun ma non so cos'è sun ah occhiali vediamo dai O sun o hug l'abbraccio è una persona un parouche penso sia tipo portafogli non lo so o joy è una droga no un vibratore un vibratore sarebbe un ottimo prodotto ma no o hit hit o hit la schiscietta alcuni sono malissimi quindi il brand è O il brand potenzialmente O ma siccome se il brand è il casamate quindi loro hanno fatto un brand con una sola lettera prima di Elon Musk cioè prima di X però ragazzi c'è O è di italiano non devi conto che è furbo perché tutto quanto l'involucro di qualcosa ok cioè tutto l'involucro di qualcosa sotto questo punto di vista oh ma a me sta piacendo questa vision comunque non vediamo se ha senso comunque niente lanciano la borsa e nel primo anno vendono 6 milioni di borse successo straordinario 25 milioni di fatturato not bad per il primo anno allora quindi questa è la loro storia loro hanno fatto una cosa che siccome è particolarmente interessante al di fuori del prodotto che a me piace tantissimo adesso vedremo cosa ne pensate voi però hanno un po' introdotto la plastica la gomma nell'ambiente fashion e secondo me era una cosa poi qualcuno sicuramente avrà qualche formazione in più e dirà eh no ma l'ha fatto prima sicuramente sicuramente però insomma nel mainstream nel mainstream gomma plastica è una roba loro l'hanno fatto come prodotto di punta loro vengono riconosciuti per la borsa in plastica esatto poi sicuramente c'erano quelle là da spiaggia che sono sempre state in plastica però non è questo il caso amico mio però guardate allora quindi il punto è non solo il materiale ma io trovo una grandissima genialità nella 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 struttura questa è una borsa modulare è un involucro in gomma una scocca come viene definita una scocca in gomma poi c'è una sacca in tessuto chiaramente ma questa sacca in tessuto come è fissata la gomma chiaramente qua c'è già un problema è fissata tramite i le manici i manici cioè quindi il manico che diventa un elemento estetico è lo stesso che tiene insieme tutta la struttura sì e tu puoi scegliere la customizzazione della scocca dei manici e del tessuto cioè questa per me è un progetto stupendo esatto cioè considerare che la cosa che fa poi questa qua è tipo una tote bag non è proprio una borsa di quelle di no di pelletteria quindi quelle dove la mano d'opera è molto cara però cioè alla fine è una borsa di sicuramente non vuole entrare nel mercato delle borse di pelle sì certo cioè è più la borsa utilitaria la borsa da spiaggia la borsa da spesa quella un portacose però questo è il contesto in cui dovrebbe muoversi questo tipo di prodotto insomma la cosa figa loro è che sono riusciti sono riusciti nonostante siano questo tipo di prodotto qua a un attimino a elevarsi a oggetto io mi azzarderei a dire oggetto a prodotto fashion a dire la verità cioè perché comunque perché comunque al di là del fatto che non siano complesse sono sono io le trovo estremamente iconiche poi a me piace molto la forma a dire la verità su questo non sono convinto ma ne parlavamo prima forse per una mancanza di immagine ok è vero però il prodotto non gli manca niente al prodotto per essere quello che dici tu però secondo me non è ancora quello che dici tu però guarda quest'altro modello che poi è Crocs che è completamente diverso però mantiene tutto l'identità a livello di prodotto no? tipo a me questo non piace allora però allora qua mi sento di distrentire perché secondo me l'unica iconica è questa qua cioè nel senso questa qua è che se tu domani fai un brand di borse e fai una borsa molto simile a questa dico ah come low bag cioè questo qua è low bag ok poi magari non sono riuscito a tenere questa iconicità anche negli altri prodotti nelle altre linee come Crocs finalmente come dicevo l'altra volta però questa qua è una borsa che se tu fai uguale e la gente la riconosce sono presi almeno lo shape quantomeno il materiale è questa roba qui degli anelli poi è chiaro che a livello di brand c'è poco se no appunto il monocromatico però voglio dire capirai nel senso che comunque non hanno un colore iconico loro esatto è quello che mi mi manca un po' cioè l'immagine del brand è un po' generalista mentre Crocs è riuscita con le collaborazioni come abbiamo visto la settimana scorsa ad essere più più specifica a chi voleva piacere questo sembra che voleva piacere un po' a tutti e alla fine il target è palesemente tutti qua questo è proprio tutti anche Crocs è tutti ha fatto specifiche collaborazioni per arrivare potenti però le ha fatte adesso le ha fatte nell'ultimo ciclo è vero è vero c'è qua magari vedendo l'instagram anche il sito il sito non so se vogliamo già passare a quello il sito effettivamente è un template di e-commerce qualsiasi veramente non ha niente di straordinario quindi non c'è nessuna identità che viene fuori e il problema cioè il fatto è che non vedo a questo punto ma non perché debbano farlo c'è ma chi se ne frega dice Giulia chi se ne frega però non c'è un'evoluzione a me non sembra che ci siano non se ne ho puntato a nessuno di specifico non c'è una visione rispetto a diventiamo più fashion o diventiamo meno fashion sembra estremamente generico molto superficiale come approccio ma infatti io ci tenevo a fare questa puntata al di fuori il fatto che il prodotto insieme piace tantissimo proprio perché un po' come sfida volevo portare questo tema del fatto che manca effettivamente un branding c'è un logo che dura nel tempo che è un logo fatto bene il prodotto è molto bello che manca niente quel prodotto che abbiamo visto ragazzi non dimentichiamoci cioè questo qua ha dieci anni cioè questo prodotto qua è fatto scusate è fatto talmente bene è talmente iconico che non è invecchiato di niente mi verrebbe da chiedermi per quale motivo ho deciso di espandere la linea di cose e non lavorare su questo però oggi quest'altro è il secondo tema di discussione è la stessa cosa che ha fatto Crocs Crocs è stata costretta ad ampliare ad altri modelli completamente diversi che ci sta cioè l'evoluzione di un brand normale cioè parti da un prodotto di punta e poi dopo aumenti diciamo le referenze in realtà che ha senso per me però magari cioè non vorrei che nell'aumentare i prodotti abbiamo perso l'ammiraglio diciamo che è questa che è chiaramente questa cioè di vedere magari installazioni con questa roba collaborazioni con questo cioè farlo uscire io faccio una domanda a chi ci segue perché magari appunto non ne so granché cioè nel senso potete dare la mia opinione però è prettamente personale vorrei sapere se secondo voi effettivamente Obeg è un brand effettivamente ancora rilevante nell'ambito nel suo ambito secondo me sì perché io non lo so perché forse per me forse non lo è più semplicemente perché rispetto a prima ne vedo di meno ma magari è solo io secondo me non lo è più ma può benissimo esserlo cioè no questa dal momento che il prodotto è ancora secondo me è moderno può ancora funzionare eccetera eccetera con una buona comunicazione può scoppiare completamente e anzi può riprendersi loro hanno tantissimi punti vendita però può diventare davvero un prodotto mondiale globale io ho paura che abbiano sofferto tantissimo la come si dice la de 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 plastica non so se è una parola perché demonizzazione della plastica perché effettivamente una borsa in plastica magari può sembrare non sostenibile quando in verità è molto più sostenibile quella borsa in plastica che una borsa poi in pelle perché ok che cioè quello è l'utilizzo giusto della plastica una cosa che non si deve buttare esatto all'infinito una volta ti dura 2000 anni una borsa del genere perché come cazzo la rompi la devi squagliare sopra altrimenti è super affordable cioè nel senso ecco però anche questa cosa capi il fatto che costi comunque pochissimo cioè questo 40 euro sta sacca ci sta cioè è sostenibile anche economicamente capisci quanto è sostenibile vuol dire che allora questo non ti si romperà mai ma se in qualche modo il tessuto ti si rompe cambi solo il tessuto cambi solo il laccio cambi uno dei tre pezzi di cui è formato questo è il progetto perfetto il pezzo principale che è la borsa ma poi la fodera interna pure se ti si rompe sì che te ne frega cioè non è che perdi gli oggetti è una sicurezza in più è un prodotto moderno cioè quello è quello che mi disturba è un prodotto moderno che però ha bisogno di tantissimo tanta comunicazione perché è di plastica secondo me poi mi sbaglio magari nessuno se ne frega un cazzo e se la comprebbe anche perché è di plastica e magari la gente non la compra più se è vero perché magari anche questo anche questo non è vero noi ne vediamo meno percezione facciamo così questa qua è proprio la rosa da bar senza troppo dati alla mano ne vediamo meno in giro e ci stiamo cercando di spiegare il perché quindi magari grafici ci diranno diversamente il fatto che sia venduto meno non si sa non si sa ma come dicevi tu questo qui è un prodotto così semplice così potenzialmente iconico che però campa vive e sopravvive soprattutto e si evolve solo di comunicazione perché qua dipende da come la vendi perché questo qua è uguale da dieci anni esatto si vende da sola va benissimo ci devi solo giocare però devi farlo stare al passo coi tempi e capire in mano a chi metterla magari banalmente come era Justin Bieber per esempio per le Crocs oggi chi è banalmente anche solo la persona italiana rilevante che promuove OBEG è Elna Santarelli per caso e allora attualmente è Ivana Spagna è Ivana Spagna con chi ve lo vedete Alessia Merz chi dovrebbe essere chi dovrebbe essere l'ambassador di questa cosa italiano Alessia Lanza non so chi sia chi è? sembra tipo quando leggi le cose su web Giorgia Pasotti Michele Arturi esatto Caterina Stellelli con la gente lì non lo so in realtà non saprei dire secondo me proprio perché fanno fino che spiegano OBEG secondo me proprio perché abbiamo visto la storia di Crocs che vi invitiamo a riprendere se ve la siete persa se come ci può essere una nuova rinascita proprio come hanno fatto loro siccome il percorso è lo stesso perché Crocs andava è sempre andata non ha mai avuto un salicino poi ce l'ha avuto perché ha lavorato molto bene di marketing col nuovo CEO eccetera eccetera con la dirigenza con la comunicazione dicevi voglio farvi vedere solo un'ultima cosa poi andiamo avanti vedi tipo questa qua è la nuova linea di prodotti no? qua secondo me poi non parlo non parlo a nome del brand perdi tutta l'unicità perché è una borsa normale come tante però magari venderà tantissimo però per tutta l'unicità perdi anche forse valori di modularità che c'erano prima il materiale non lo so se è lo stesso è sintetico ho visto è sintetico diventi uno dei tanti brand di di moda di borse quando hai un prodotto che è un carro armato ho parlato la settimana scorsa con la puntata di facebook che ogni tanto non è male ripetere la vision della propria azienda questi prodotti qua sembrano chiaramente non derivati dalla vision iniziale ma derivati quella stronzata che diceva Giuliano di contenere contenere cose però diciamo era più stabile come terreno di costruzione che chiaramente lì si sono messi in un prodotto che probabilmente sanno che piacerà a chi compra già lo bag certo quindi hanno hanno fatto magari una borsa piccolina con un costo basso durevole che venderà sicuramente ma la mia sensazione è che loro stiano seguendo i dati sulle vendite piuttosto che la vision iniziale dell'azienda che tra l'altro è design driven questa qua completamente può essere poi magari non è così però questa qua per fare una borsa piccola la shrink è fatta ce l'hanno però vuoi metterci una cosa in più ci fai la chiusura però la forma io con questa forma ci fai altri mille accessori puoi fare tutto questa forma obiettivamente pure il costo dell'airpods così bellissimo tra l'altro guarda negli store quanto iconica in realtà anche la palette era molto monocromo figata comunque loro hanno sperimentato hanno lanciato tanti prodotti leo sleepers leo eccetera eccetera nel 2017 hanno lanciato lo sonno o joy lo dog che è un cane di plastica che cos'è lo joy lo joy è una lampada che carina perché perché chi vuol dirlo allora la lampada è un lunchbox quindi due prodotti è una schischetta puoi ripetere la frase la lampada è un lunchbox no io ho capito ho capito le parole c'è l'accento su questa è che hai appena detto c'è la lampada è una schischetta una lampada sono due prodotti uniti una schischetta non c'è la lampada è la schischetta che cazzo ci va una schischetta per una lampada questa lampada è tante cose ma non una schischetta ok però hanno lanciato due prodotti nel 2017 che uscivano un po' dal loro campo principale quindi quello dell'indossabile del fashion eccetera eccetera con l'idea che portassero avanti scusate il tema della mobilità cioè per loro la O è mobilità qualcosa che porti la O non può essere orientamento o non lo so non c'è una parola di mobilità ho perso la via sapete una parola con la O che indica mobilità scrivetelo il fatto sta che loro lanciano questi due nuovi prodotti la schischetta progettata dallo studio dal laboratorio 4 poi vi farò vedere com'è fatto e la questa lampada progettata da un altro architetto perché sono studio architetto e si chiama Franco Driusso che non avrete mai sentito perché è giustamente un architetto eccetera eccetera non ci riguarda comunque allora la lampada è questa vi leggo la descrizione di questa lampada perché giustamente fino adesso vi sarete chiesti ma perché sì decisamente perché certo O Joy in realtà è molto più di una lampada ah questo qua non deve essere il vibratore O Joy è un oggetto divertente e polisensoriale concepito per sollecitare piacevolmente i sensi dando luogo a un'armonia di stimoli è divertente come andiamo avanti avanti oltre alla funzionalità di punto luce che è anche un diffusore di fragranze grazie alle cartucce posso dire una cosa quasi sono fatti fregare bravo ma adesso ci arriviamo sono fatti fregare dal design italiano adesso ci arriviamo questo è proprio di design italiano questo è proprio di design italiano lampada di design italiana oltre alla funzione di punto luce ha tutte le carti regola per essere una truffa esatto per essere truffati mi dispiace quindi cartucce intercambiabili da inserire all'interno del dispositivo che consentono con le loro note olfattive di spaziare in differenti ambiti emozionali se la legge ha quasi senso il fatto è che quando poi la vedi non sai che aspetta chi gli occhi mangia le cose che sto per leggere però non è finita chi ci sta ascoltando su spotify avete il vantaggio di poterla andare a vedere solo dopo questa lampada è vero è vero io ho letto bluetooth tramite un modulo acustico bluetooth modulare che puoi scegliere di mettere o no opzionale facilmente inseribile nella base a mezzaluna o joy diventa un efficace diffusore di musica da collegare a qualsiasi smartphone chiudo quando hanno presentato questo concept il designer l'architetto avrà detto con questa lampada abbiamo la vista luce l'olfatto si 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 questo è uno scam all'italiano è ludito e loro ma mio dio è un progetto incredibile cazzo questo loro sono partiti con l'orologio durante la design week il salone a Milano quindi adesso con un po' più di stabilità sono andati da questo signore e si sono fatti tuffare no no però dai sta lampada mamma mia dai allora è una lampada che si si spaccia rientra nel calderone rientra il calderone delle lampade di design che vedi magari ha le varie varie venti è proprio una lampada di design però è una lampada che è proprio una lampada di design puoi finirla lì è una lampada ma perché questa roba ecco vedi così ma non ha più senso niente e mi dispiace perché non vorremmo aggiungere sì come si dice nella piaga però come presentata è un progetto universitario questo qua è il visolo ufficiale che però cioè appunto magari è solo la presentazione magari si può rigirare però noi abbiamo parlato noi abbiamo parlato dei valori del brand di O questo è lontanissimo cioè per farlo rientrare ci vuole un bellissimo lavoro di storytelling che non c'è perché è veramente lontana cioè è proprio lontana cazzo questo è un peccato è c'è più che altro cioè potevano fare una lampada che che agglomerava tipo una lampadina una sfera luminosa sì bastava era più vicino no qualcosa tipo uno stelo che si inglobava una palla luminosa che cacciava l'odore se proprio volevi mettere pure comunque è chiaramente troppa roba il design in sé è dell'O-Bag quella storica iconica non è chiaro non sono riuscito a trovare il designer probabilmente è stato fatto internamente oppure è stato fatto da questo da questo studio di architettura o quanto pare ce l'hanno gli studi di architettura che fanno design che ha fatto altri prodotti quanto pare ce l'hai tu questa è una frecciatina scusami esatto quanto pare tu ce l'hai con questi studi vabbè ma non fa niente vabbè comunque hanno fatto la O-Bag Soft Lo Sun Lenti Butterfly no quindi sono la maggior parte ma bello però O-Bag Chic questo è bello beh guarda che onestamente questo studio è figo no questo è figo c'è un sacco di robe fighe non so perché questo lunchbox modulare ma perché poi dopo ha cambiato studio no ma quella è sperimentazione quello è sei a cena conosci l'architetto ma se mi facessi una lampada oh ti ha posto una lampada ce l'aveva già fatta dico questa non la accetta vabbè andiamo avanti direi fondamentalmente direi che possiamo andarci avanti allora l'ultima cosa perché io ho spulciato anche il loro TikTok ah oddio che ci sai dire TikTok 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 oh che palle me lo registra beh va a fare qua beh no niente eh sì ma lascia stare devo rientrare complesso vabbè una cosa che volevo dire che voi direte è una cazzata è il fatto che quando ci sono delle collaborazioni con degli influencer con qualcuno loro hanno avuto qualche piccola collaborazione e devi fare vedere il tuo marchio a lettera agli influencer e lettera ai brand flippare il video è molto semplice di conseguenza se questi influencer fanno vedere lo bag che ha logo al contrario la gente non legge il tuo brand quindi in due secondi si può flippare e io questa cosa non la sopporto un caso sembra sciacco però un caso che mi ha fatto denosire Lebron James quando annunciò di partecipare a Space Jam lo fece con questa foto dove cazzo c'è scritto Space Jam che è il logo al contrario non si legge non si capisce ci vuole un secondo a flippare ragazzi non è a stronzate è veramente cioè tu leggi Space Jam lì? no però il logo di Space Jam è abbastanza iconico lo leggi? no lo lego se tu vedi O'Bag al contrario non è O'Bag al contrario non è Nike che è al contrario uguale è un'altra cosa quindi stai dicendo che il futuro dei loghi da buttare verso gli influencer sono gli ambigrani dico di starci attenti che non ci vuole un cavolo se state disegnando un logo che ha bisogno di essere dato in mano ad influencer molto quindi un logo di cosmetica sì certo fatelo Anna chiamatelo Anna ok io chiuderei questa puntata con questo bellissimo prodotto made in Aliexpress Am Bag è questo dicevo io bravissimo Am Bag perché quando succede questo sei un brand iconico ti copia chiunque Aliexpress però è la stessa borsa con delle persone asiatiche a fianco non perché come state però con il logo copiato col nome copiato a quel punto sei un brand iconico e a quel punto ce l'hai fatto però capisci da te che devi puntare su quello non fa le lampade che cazzo fai le lampade cioè ti hanno copiato il prodotto ma continua su quello ma perché fai le lampade ma perché fai le borse in sintetico cioè questa è la cosa più cioè è l'esempio più catartico non so se non ha senso però è l'esempio più chiaro di come di dove devi andare a far finire il tuo brand prendi quelle borse facci le spille pure tu fai le spille che si mettono nella gomma rivoluzionano un po' porca miseria porca miseria il casco o casco cioè puoi fare il mio o casco o locci o locci o locci o locci esatto la collaborazione a Napoli è pilotata l'hanno fatta però a Capri a collaborazione con Capri nello store di Capri c'erano bello ho scritto Capri molto belle bellissime o a stellone va bene speriamo che questa questa puntata tematica vi sia piaciuta scriveteci nei commenti se avete altri brand da consigliarci da trattare una puntata iconici iconici che da spulciare magari la storia italiani ancora meglio assolutamente e niente comunque voglio sapere giù nei commenti sempre la vostra considerazione su Obeck cioè come percepite voi il brand anche se lo usate soprattutto se lo usate e perché lo fate è che la lampada ciao 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 ciao